E' polemica su Giuseppe Cruciani a tavola con un piatto di carne di orso. Il conduttore del programma radiofonico La Zanzara ha mangiato infatti uno spezzatino a base di plantigrado. A documentare il singolare pranzo acquistato in Slovenia e consumato in Friuli Venezia Giulia è stato lo stesso giornalista in un video pubblicato sui social. Questa è carne di orso. E' carne di orso, quindi mi appresto a mangiare carne di orso. Molto dolce, fenera, perché gli orsi a noi piacciono vivi, ma anche sul piatto. Certificata, è Slovenia, non rompere... Slovenia, provenienza Slovenia. Oltre ad avere raccolto migliaia di visualizzazioni, il gesto provocatorio di Giuseppe Cruciani ha scatenato la rabbia degli animalisti. Da settimane in prima linea per tutelare gli orsi del Trentino Alto Adige.